Sì, dopo tanti anni siamo riusciti a portare questa bella prova qui alle Marche, qui a Fabriano, con la speranza di fare bene, di fare divertire il pilota. Ieri abbiamo fatto una posta di tracciato con Mario Rinaldi, dove anche lui ha detto che Grandelini ci siamo, ma c'è solo un attimo di migliorare alcune cose e penso che ci siamo per l'evento che ci sarà. Allora ringraziamo anche il Presidente, colui che è chiamato a guidare tutto il suo staff, perché il Motoclep non si compone solo del Presidente, ma anche di tutto lo staff che naturalmente aiuta proprio completamente il Presidente.